l'autipnosi simbolica. Quindi l'autipnosi simbolica è proprio la capacità di utilizzare i simbolismi per raggiungere i nostri obiettivi. Ovviamente quando parliamo di ipnosi in generale solitamente si riferisce a uno stato di coscienza, no? E in effetti l'ipnosi meditativa è sicuramente uno stato di coscienza particolare. Ma non è soltanto la meditazione che può farci vivere stati ipnotici perché se pensiamo all'innamoramento, l'innamoramento è uno stato ipnotico se vogliamo. Così intendiamo quindi in generale? Cioè ecco dobbiamo distinguere secondo me tra stato di coscienza e stato ipnotico perché lo stato di coscienza è uno stato di coscienza che ad esempio è quello meditativo dove diciamo è rilevabile anche dal, come possiamo dire, è rilevabile anche dal, se andiamo a vedere, dall'elettroencefalogramma. Quindi le onde alfa, onde teta, onde delta, insomma. Ma l'utilizzo dei simbolismi su se stessi, diciamo, in realtà non utilizza di fatto questo stato meditativo, cioè non utilizza le onde alfa, delta, teta, ma utilizza anche lo stato normale, quello che viene definito di veglia, tra virgolette, però che è uno stato altamente emotivo. Perché noi quando siamo innamorati non è che siamo addormentati o che siamo in onde alfa, onde delta, onde teta, stiamo in tutte le onde, possiamo essere nelle onde alfa, delta, teta, gamma, non so, tutte le cose che ci sono, ma noi non... ma viviamo però uno stato ipnotico, intendendo come stato ipnotico, uno stato di coscienza in cui possiamo, diciamo, ragionare diversamente. Ecco, noi ragioniamo più secondo una logica, ecco, definita così, noi ragioniamo più secondo una logica deduttiva, ma ragioniamo secondo una logica induttiva. cosa vuol dire questo? La logica deduttiva è 2 più 2 fa 4, sempre 4, solo 4, e tutto quello che mi viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo piglio e lo butto nel cesso. Mentre invece quando siamo innamorati 2 più 2 mica fa più 4, dipende, perché chi è che ti dice cos'è sto 2 più 2? Se te lo dice la persona che ti coinvolge potrebbe far qualunque cosa, no? Se chi ti dice che... se tu sei innamorato e quello ti dice che 2 più 2 fa 5, fa 7, fa 9, oppure è una formula magica, e tu tendenzialmente ci crederai, perché entri in uno stato di coscienza, lo stato di coscienza è il solido, stato di coscienza intendendo come onde cerebrali sono quelli che sono, diciamo, non è importante, ma però diventa uno stato ipnotico, uno stato in cui percepisce la realtà in modo molto diverso rispetto a quando uno si è innamorato. Quindi, allora, questo è per dire che cosa? Per dire che... quindi l'innamoramento avviene quando c'è un simbolo esterno, ecco, quindi questo per dire che cosa? Per dire che i simboli ci fanno innamorare anche, quindi è evidente che ogni simbolo esterno, quindi può farci innamorare, ma nessun simbolo esterno ha il potere di farci innamorare se non si va a agganciare a un simbolo interno già presente dentro di noi. Questo è un altro concetto fondamentale. E quindi noi possiamo utilizzare i simboli su noi stessi per innamorarci di noi stessi, detto in altri termini fondamentalmente. E quindi possiamo utilizzare i simboli per sviluppare autostima, sviluppare self-confidence, fiducia in noi stessi, insomma, per anche avere una maggior sicurezza. Perché attraverso i simboli possiamo dare un servizio alla nostra parte emotiva. E quindi danno servizio alla nostra parte emotiva si crea quella che io chiamo quella nuova ed eterna alleanza tra parte logica e parte emotiva. E questo poi è il concetto fondamentale. Allora, come sviluppare il tutto? Prenderà qualche lezione questa parte? Anche perché è una parte che volendo si può approfondire molto. Poi non so quanto sia l'interesse dell'approfondimento, diciamo, di questa parte. Però volendo si possono dire tante cose, si può approfondire molto, diciamo. Allora, intanto diciamo questo, che i simboli che abbiamo visto noi, diciamo, sono dei recettori emotivi. Cosa vuol dire recettore emotivo? Vuol dire che sono dei simboli, sono degli agglomerati di emozioni e tendono a nutrirsi di emozioni. Quindi perché noi andiamo alla ricerca di emozioni? Perché dentro di noi abbiamo dei simboli, quindi dei simboli pre-costituiti, quindi già presenti dentro di noi, costituiti fondamentalmente dalla fecondazione in poi. Perché se voi ci pensate, questi simboli di cui abbiamo parlato, si costituiscono proprio nel momento della fecondazione. Adesso io non voglio parlare di vite precedenti. Perché se vogliamo, noi come nasciamo? Nasciamo perché noi nasciamo perché abbiamo un... Sì, come dice Roxy, trattiamo i simboli interni. Esattamente, sì, l'utilizzo dei simboli su noi stessi. Noi nasciamo perché abbiamo un simbolo paterno che nella fecondazione è rappresentato dallo spermatozoo, che si unisce a un simbolo materno che nella fecondazione è rappresentato dall'ovulo e che dal luogo ha un simbolo egocentrico che sempre nella fecondazione è rappresentato dall'uovo. L'uovo che poi diventerà feto, diciamo, adesso non conosco tutte le varie fasi della differenziazione. Insomma, comunque, quest'uovo, sta cellula uovo, che è la cellula egocentrica, a un certo punto diventerà feto, poi diventerà il bambino o la bambina nascitura, insomma. Quindi, comunque, nel momento della fecondazione ci sono tutte e tre i simboli. C'è il simbolo paterno, spermatozoo, il simbolo materno, ovulo e il simbolo egocentrico che si forma proprio dall'unione di questi due. Che, se andate a vedere, è un po' quello che abbiamo detto, no? Da un certo punto di vista. È un po' quello che abbiamo detto perché il simbolo egocentrico nasce un po' dal conflitto con tutti e due. Sì, l'embreone, ovulo, uova, embrione, feto, eccetera, eccetera. Ma beh, ma questo non è così importante, diciamo, la differenziazione, perché già nel momento in cui diventa uovo, la cellula uovo comprende sia il materno che è il paterno fondamentalmente. E quindi questi simboli precostituiti già iniziano, no? Già quando nasce la cellula uovo, inizia a sperimentare delle emozioni, inizia a sperimentarle già nella vita intrauterina. E nella vita intrauterina possono già verificarsi delle crisi, date ad esempio dall'emozione dell'emozione del rifiuto. Poi dalla nascita in poi, diciamo, il bambino appena nato sperimenterà soltanto emozioni, no? In una fase che si chiama prelogica, dove si consolidano questi simboli fondamentalmente. Inizialmente i simboli non vengono distinti, no? Perché non è che il bambino appena nato a livello cosciente, io non so, non ricordo quando sono nato, però a livello cosciente il bambino non è che razionalizza, non è che ragiona, no? Non credo almeno che ci siano dei ragionamenti logici, perché la parte logica fondamentalmente, così dicono gli esperti, insomma, si struttura attraverso il linguaggio. E il linguaggio è la prima differenziazione, no? È la prima è la prima forma, è la prima forma di logica che va a crearsi. Quando il bambino inizia a parlare due, tre anni, quattro anni, però poi la logica, a fura di strutturarsi, richiede tempo. Tra l'altro la struttura logica io credo che abbia un'evoluzione, no? Noi possiamo accumulare informazioni, cognizioni, abilità logico-razionali costantemente durante la nostra vita. Probabilmente arriva un periodo che c'è un decadimento, no? Con l'anzianità probabilmente anche la sfera logica perde un po' di colpi, no? Poi magari chi è colpito da Alzheimer o così, di fatto perde la logica. Io non credo che perda le emozioni. Cioè le persone che ad esempio hanno l'Alzheimer, che mi sappia io, non è che sono un esperto ovviamente, però non credo che perdono l'aspetto emotivo. Cioè vivono le emozioni, cioè ridono, piangono, soffrono, insomma, le emozioni vivono lo stesso. Quello che perdono è la capacità logico-razionale, la capacità cognitiva. E comunque nel periodo dell'anzianità diciamo che ovviamente è probabile che ci sia un decadimento da parte delle capacità logico-razionali. Non è detto, diventando anziane potrete perdere, voi siete già anziane, perdete un po' di capacità logica. Non è detto questo, questo non è... perché diciamo ci sono persone che magari mantengono le capacità logico-razionali, no? Una volta dicevano agli anziani fate le parole incrociate, ricordate, no? Le parole incrociate, diceva una volta, perché così mantieni le tue capacità di ragionamento, eccetera, eccetera. Detto questo però, cosa vuol dire questo? Queste capacità logico-razionali, queste capacità rappresentano un po' il simbolo egocentrico, se vogliamo, no? Fondamentalmente. anche se nel simbolo egocentrico c'è, ci sono poi emozioni anche, fondamentalmente. Però il simbolo egocentrico è formato, diciamo, è formato da sfera cognitiva anche. Allora, quindi, che cosa significa quindi essere ipnotizzati? Significa, ecco, no, stavo dicendo, quindi che cosa succede poi? Che tutte queste emozioni che noi andiamo a sperimentare da bambini appena nati, alcune emozioni sono forti, no? Man mano che si struttura, inizialmente il bambino vive solo emozioni, però man mano che struttura la parte logica, quindi fondamentalmente, diciamo così dai sei anni in poi, no? Perché poi alla fine, sì, certo, anche un bambino di tre anni è una logica, anche un bambino di quattro è una logica, ma la vera formazione logica nel nostro mondo odierno ce l'abbiamo con l'avvento della scuola, quando andiamo a scuola, no? Quando... perché andare a scuola comporta... quindi la prima elementare comporta... sì, cioè uno dice vai anche... vai anche all'asilo, anche all'asilo ci sarà una logica, no? È vero, però da un punto di vista strutturale, tra l'altro anche... anche tanti studi hanno... hanno detto che, insomma, intorno ai 6-7 anni fondamentalmente quando si struttura un po' la sfera cognitiva in modo un po' più solido. E quando inizia le prime capacità di ragionamento, poi è ovvio che un bambino di 6-7 anni non è che ha sviluppato totalmente la logica, no? Però poi crescendo 8-9-10-11-12-15 la logica inizia a strutturarsi e a diventare solida. Si fortifica ovviamente nel tempo, io penso fino a 30-40 anni, 50-60, insomma, possiamo sempre diventare... possiamo sempre fortificare la nostra logica, fin tanto che non inizia pure un processo di decadimento per altre motivazioni. Comunque, questo per dire che cosa? Per dire che nel momento in cui si struttura la logica iniziano anche le sofferenze, però, perché la nostra parte logica inizia a ragionare, inizia a dire 2 più 2 fa 4, inizia ad avere i suoi obiettivi, inizia ad avere le sue cose, e allora la parte logica inizia a soffrire, perché la parte emotiva, teniamo presente che, sì, patisce il dolore, ovviamente, il bambino piccolo il dolore lo sente, quello è un meccanismo di sopravvivenza, però tante cose non le vive come una sofferenza, no? come... cioè le vive come emotività pura, ma la codifica sofferenza la fa poi la sfera logico-razionale, quindi le vere sofferenze nascono quando un bambino o una bambina ha le prime, diciamo, ha sviluppato la prima parte logica, no? Quindi... e quando arrivano le prime frustrazioni? Sono le frustrazioni che ci generano sofferenza. Che cosa vuol dire e frustrazioni? Vuol dire che noi automaticamente abbiamo delle aspettative, infatti bisognerebbe non avere aspettative, ma automaticamente abbiamo delle aspettative e queste aspettative ci generano poi delle sofferenze nel momento in cui le aspettative vengono frustrate, non vengono realizzate. E allora cosa succede? Se la sofferenza è molto forte, si innescano i primi meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa sono fondamentali. Il meccanismo di difesa principe, diciamo così, poi ce ne sono tantissimi, quello principe, studiato da Freud già, insomma, è quello della rimozione. Cosa vuol dire rimozione? Vuol dire io soffro e allora come faccio a evitare di soffrire? Mi sgancio da questo oggetto di sofferenza e lo butto, diciamo, nel dimenticatoio, lo butto, lo metto in cantina, lo metto nel freezer, lo metto nel frigorifero, in modo tale che non soffro più. Quindi, però non è che non soffro più in quel momento, ma questa emozione congelata non è che l'ho annullata, non è che l'ho annientata, l'ho semplicemente messa in cantina. Quest'emozione congelata diventa un simbolo e quindi di simboli ne abbiamo. Ovviamente anche il simbolo materno e il simbolo paterno che, vi ricordate, noi sviluppiamo necessariamente un conflitto o con la madre o col padre e diventano dei simboli questi. Quando, ad esempio, il primo conflitto, il primo simbolo che noi andiamo a sperimentare, quindi il primo conflitto, il primo simbolo conflittuale, quella che poi potrà diventare la vecchia conflittualità, ma il primo conflitto che rappresenta la rabbia compressa. Ricordiamoci che il primo conflitto rappresenta la rabbia compressa. E questa rabbia compressa, diciamo così, che siccome ci genera dolore, quando supera quelli che vengono chiamati gli indici di tolleranza, l'indice di tolleranza di chi? Della sfera logica, perché la sfera emotiva non ha tolleranza, la sfera emotiva tollera l'infinito, no? Ma quando la sfera logica inizia a superare la solita tolleranza, allora questi simboli, quindi questa energia, questo simbolo diventa latente, diventa inconscio e quindi perdiamo, diciamo, la connessione con... quindi il simbolo diventa, diciamo, viene rimosso, no? Quindi diventa un simbolo inconscio fondamentalmente. Infatti non è che uno magari a livello logico e razionale si ricorda di aver avuto un conflitto con la madre o col padre, ma sì, magari se lo ricorda, ma non viene rimossa la parte cognitiva del conflitto, viene rimossa la parte emotiva. Quindi noi da adulti, cioè io posso pensare, sì, da bambino avevo un conflitto con mio padre, un conflitto con mia madre, insomma, ma te lo ricordi come, diciamo, fosse un resoconto, no? Ha perso tutta la parte emotiva. Ma non perché la parte emotiva non c'è, perché la parte emotiva è stata rimossa? E questo è il concetto, no? L'energia è stata rimossa. Tu ti ricordi la parte superficiale, la punta dell'iceberg, ma la parte energetica non te la ricordi. Quindi puoi tranquillamente parlare di tuo padre, sì, mio padre da bambino mi... che ne so, qualcuno dice, ah, sì, i miei genitori da bambino mi sculacciavano, che ne so, uno può dire, mi chiudevano a uno stanzino, mi mettevano in castigo, uno si ricordano questi eventi. Ma la sofferenza vissuta a suo tempo, il tema presente è che non è detto che devi appendere un bambino all'albero maestro della nave per farlo soffrire, perché i bambini ovviamente sono più fragili, no? Basta poco, basta magari una sgridata, no? Per dire. Tu ti ricordi, sì, mio padre mi sgridava sempre da piccolo, mia madre mi sgridava sempre. Ma lo racconti così, no? Come fosse un qualcosa... c'è quello che magari dice, ah, sì, mio padre mi pigliava pure a cinghiate, mi lasciava qua, mi lasciava là. Ma lo racconti così, come raccontassi un qualcosa, sì, vabbè, ma capita. Ma a quell'epoca lì, magari, non è detto, quando tu hai vissuto questa, questa, diciamo, questa situazione, e come dice Chris Chris, riaffiora, però all'epoca in cui tu hai vissuto questa situazione, era, rappresentava una sofferenza molto forte e questa sofferenza è stata rimosso. Quindi questi simboli sono stati rimossi. Ovviamente i simboli principali che sono stati rimossi sono o il simbolo materno o il simbolo paterno, che è la prima, diciamo, forma di rimozione, perché poi le prime sofferenze appunto le abbiamo vissute proprio o col simbolo materno o col simbolo paterno. Ovviamente a questi aggregati di simboli si collegano altre emozioni, no? Perché poi, come dicevamo, le due emozioni fondamentali che ci possono far vivere sono la, in misura maggior o minore, sono la rabbia, quindi la rabbia compressa, ma potrebbe essere anche un'altra qualità di simbolo, un'altra qualità di emozione che è compressa, che è quella praticamente dell'amore non appagato. Anche quello genera sofferenza. Cioè, non è che genera sofferenza soltanto il tuo padre che ti sgridava e che ti mandava a stendere, no? E che ti trattava male, ti menava, cioè ti generava rabbia. Ma anche l'amore che tu non hai potuto dare o ricevere, diciamo così, per dire un padre indifferente, un padre assente, mica ti sgridava, mica ti diceva niente. Però anche questo, anche questo può essere una fonte di sofferenza molto forte. Cioè, non è che uno soffre soltanto perché pide abbastonato sulla testa, ma anche ricevere indifferenza. Anche un padre assente, ad esempio una madre assente, insomma, rappresenta comunque una sorta di sofferenza anche questo. Quindi le due emozioni che vanno, come dire, aggregate a questi simboli, a diversi simboli, sono in due macro aree fondamentalmente, no? Nella rabbia compressa, cioè rabbia che tu hai vissuto e che hai tenuto compresso, ma anche la rabbia dell'amore è compresso, amore che avresti voluto vivere, dare o ricevere e non hai potuto vivere. Quindi è rimasto, e siccome ti voceva soffrire, l'hai rimesso nel calderone. Queste due, diciamo, emozioni compresse, che noi poi adesso andremo a vedere come utilizzare, rappresentano una fonte energetica molto forte e rappresentano la base energetica di tutti i coinvolgimenti che avremo poi nella nostra vita futura. Perché quando parlavamo di simbolo alimentatore, simbolo stimolatore, eccetera, rappresentano proprio queste vettovaglie energetiche. Il simbolo alimentatore rappresenta la vettovaglia energetica della rabbia compressa e il simbolo stimolatore rappresenta le vettovaglie energetiche, come dire, il serbatoio energetico del pathos compresso. E bene o male li abbiamo entrambi, abbiamo tutte e due, abbiamo sia rabbia che pathos. Quindi un simbolo è tale perché ha un serbatoio energetico. È quello che dicevamo prima, è un simbolo, ci ipnotizza per quello, perché ha un serbatoio energetico che può essere utilizzato. Ovviamente questo serbatoio energetico genera delle crisi. Queste crisi possono essere delle crisi perché noi non siamo riusciti ad amare o ad essere amati e quindi non siamo riusciti a conquistare praticamente il nostro oggetto di desiderio fondamentalmente, no? E quindi questo oggetto di desiderio ci ha praticamente, abbiamo perso il potere di conquista e quindi vuol dire in questo caso che abbiamo poca energia, poca energia nel serbatoio, diciamo così, poca energia legata all'amore. Mentre invece molta energia utilizzabile legata all'amore, perché abbiamo quindi in questo caso molta più rabbia che prende il sopravvento sull'amore. E poi viceversa possiamo invece avere una compressione, diciamo così, quindi la rabbia espletata che prende il sopravvento sull'amore, perché la rabbia espletata va a distruggere l'amore. Mentre invece ci può essere il caso contrario in cui abbiamo rabbia compressa e l'emozione, l'amore, il patos che prende il sopravvento, che succede quando siamo innamorati. Quando siamo innamorati ci teniamo la rabbia compressa perché abbiamo paura che se andiamo contro la persona che amiamo, quello ci manda a fanculo fondamentalmente e quindi ci lasciamo condizionare. Quindi non so se è chiaro il discorso, pensate a quando siete innamorati voi. Quando siete innamorati voi vuol dire che l'energia dell'amore non è compressa, è espressa, ovviamente. E questa energia espressa dell'amore, pensate a quando siete innamorati, dovete pensare a quando odiate e a quando amate, diciamo per fare riferimento a voi stessi. Quando amate vi tenete la rabbia dentro, cioè non è che tu dici vaffanculo al tuo oggetto d'amore. Non glielo dici perché? Perché temi che quello ti possa abbandonare e quindi subisci il condizionamento. Cioè tu hai la percezione di essere condizionato. Quando sei amato, quando ami, percepisci il condizionamento, percepisci il fatto che fai delle cose che non vorresti fare proprio perché, diciamo, temi lo scontro, tra virgolette, con l'oggetto di desiderio, no? Quindi, mentre invece quando odi, tra virgolette, quando sei incazzato, beh non provi amore e espleti la rabbia e questa rabbia va a consumare l'amore, no? E quindi l'amore è l'energia però propulsiva che ti fa, che ti fa, e quindi se la rabbia viene fuori tu non ami fondamentalmente. Quindi ti manca la capacità di conquista perché non riesci a conquistare perché non ami. Non riesci a innamorarti, non riesci a coinvolgerti, ti manca l'energia del coinvolgimento. Le due energie che possiamo anche chiamare Eros e Thanatos, utilizzando una, come dire, una terminologia freudiana, no? Se prevale Eros, tu ami ma non, ma subisci il condizionamento. Se prevale Thanatos, tu non riesci ad amare e subisci quindi, come dire, un sogno infranto, no? Perché non riesci, non riesci a sognare, non riesci ad avere dei sogni perché fai discorso del tipo l'amore non esiste, sono tutti uguali, insomma, quindi fai questi ragionamenti qua. È ovvio che in un caso e nell'altro sei ipnotizzato. E ti ipnotizza chi? Ti ipnotizza il tuo simbolo, il tuo simbolo interno. Vedremo nei prossimi video come andare a stimolare questi simboli interni anziché per usarli a nostro vantaggio fondamentalmente, cioè usare consapevolmente questa energia dei simboli interni. Bene, poi per questo video è tutto.